buon pomeriggio amici di un sf uno benvenuti alla sesto appuntamento di formula fan sono insieme a matteo e a gioa maria ciao ragazzi ciao a tutti siamo arrivati al sesto appuntamento questo weekend infatti si corre a monte carlo gioa maria ci presenti la pista sì certo allora il circuito di modo con un circuito che di certo non ha bisogno di presentazioni è uno dei circuiti più leggendari della formula 1 il secondo più presente nella storia del circo del circus secondo soltanto a monza è un circuito iconico per tantissimi motivi per la sua ambientazione che è appunto quella del piccolissimo stato del principato di monaco per la per la sua storia che è una storia ricchissima si va addirittura negli anni 20 del del novecento con le prime versioni di questo tracciato e per le sue caratteristiche che possiamo vedere perfettamente dal dal video sono il tracciato infatti è un tracciato molto portuoso molto stretto un tracciato in cui il sorpasso è molto difficile quindi tutte caratteristiche che lo rendono se vogliamo un po' anacronistico per quelli che sono gli standard dei circuiti moderni e rendono monaco un circuito totalmente unico un unicum all'interno del del calendario parlavamo di un circuito tortuoso e stretto ebbene proprio per queste caratteristiche per il fatto che i rettilinei sono molto brevi non superano i 700 metri di lunghezza tutti i team decideranno come come sempre di optare per un per un setup che generi il massimo carico possibile così da poter sfruttare al massimo poter guadagnare al massimo nelle nelle curve del principato che sono alcune delle curve più lente del mondiale la curva più lenta di tutto il campionato è proprio su questo circuito è il tornantino che stiamo per affrontare e il giro in generale il giro di monaco è il più lento in termini di velocità media di tutto il il campionato è anche una pista molto corta si corre su 78 giri quindi che non coprono la lunghezza diciamo standard di un gran premio di formula 1 che sarebbe di 300 chilometri per quanto riguarda la la gara diciamo che le sessioni più importanti nel per quanto riguarda il gran premio di monaco sono la qualifica è la qualifica per quale motivo perché la posizione in pista è ciò che conta su questo circuito abbiamo già detto che i sorpassi sono molto complessi perciò avere una posizione di quali una posizione in qualifica buona e avere una partenza discreta sono le chiavi principali per ottenere un buon risultato e in più serve anche una strategia di gara pressoché perfetta perché ovviamente il sorpasso è difficile uno dei pochi modi per sorpassare è la sosta ai box e appunto in diverse circostanze il gran premio di monaco è stato vinto o perso proprio ai box pensiamo alle edizioni duemila quindici duemila sedici ehm e Hamilton ha rischiato anche di di perdere l'edizione duemila diciannove con con quell'attacco di Verstappen Hamilton aveva montato una gomma eh troppo morbida che a fine gara era completamente finita ehm per quanto riguarda eh l'albo d'oro il pilota più vincente ehm sul sul circuito di Monaco è Ayrton Senna con con sei vittorie seguito da eh Michael Schumacher a cinque e da mister Monaco Graham Hill a quota cinque anche lui mentre tra i team il team più vincente è la McLaren eh seguita dalla la McLaren a quota quindici ehm con la Ferrari invece a quota la nove eh seconda ehm passando alle gomme eh le gomme che la Pirelli ha deciso di portare per questo gran premio come ogni anno eh a Monaco sono le gomme più morbide eh della gamma quindi in questo caso la C3 la C4 e la C5 ehm il circuito in sé non è assolutamente ehm gravoso eh sulle sulle gomme che ehm generalmente diciamo le più dure riescono a ehm a durare per gran parte della della gara forse potrebbero durare anche più di un gran premio ehm speriamo che ehm anche quest'anno come nell'ultima edizione quella duemiladiciannove si riesca a vedere un gran premio eh di Monaco interessante dal punto di vista strategico ehm e che magari eh si si abbia un secondo capitolo di quella lotta fra Hamilton e Verstappen che abbiamo già che abbiamo già visto nel duemiladiciannove eh con la vittoria di Hamilton. Tra l'altro come ci diceva il responsabile della Pirelli Mario Isola questo weekend fa il suo debutto nel duemilaventuno nel campionato duemilaventuno eh la C5 la mescola C5 infatti non era mai stata utilizzata finora parliamo ragazzi di Ferrari avete letto le dichiarazioni di di Leclerc questa settimana ha dichiarato che questa è la miglior vettura che lui ha guidato da quando è in Ferrari volevo chiedervi di commentarla ehm di commentare queste dichiarazioni e vi dico già che ehm tra Norris eh della McLaren e Leclerc c'è solo un punto in chiave insomma terzo posto costruttori quindi lancio a voi la palla risponde chi vuole sicuramente la SF ventuno e la vettura la Ferrari più costante che Leclerc abbia mai guidato perché il duemiladiciannove era una vettura abbastanza altalenante duemilaventi passiamo avanti e finalmente quest'anno la Ferrari sembra aver trovato una una costanza perché bene o male è sempre lì se escludiamo la gara a Portimao che è andata male ma nel duemilaventi sarebbe stata considerata un successo una gara del genere eh i passi in avanti della Ferrari sono sicuramente ci sono quest'anno a Monaco la Ferrari secondo me avrà delle ottime chance perché il terzo il terzo settore come ha già detto Binocchio il terzo settore di del Montmelò ci fa ben sperare per per la gara nel principato perché essendo la un settore molto molto tecnico e molto tortuoso ehm non dico che ricorda le strade di Monaco però più o meno ci si può fare un'idea di quella che di quella che sarà la performance della Ferrari eh già a partire da da giovedì quindi vediamo un po' io ho buone ho buone sensazioni e spero che saranno confermate sì anche io sostanzialmente ho buone sensazioni per la Ferrari ehm soprattutto per quanto riguarda le Clerc che avrà una voglia matta di rifarsi dopo gli ultimi weekend a Monaco eh ovviamente il suo gran premio di casa e mh ha avuto una sfortuna incredibile lui sempre nel suo gran premio di casa anche quando era in Formula 2 ad esempio si è ritirato sia nella feature race che nella sprint race eh mentre stava dominando eh il eh il weekend in nel 2018 si ritirò per un problema i freni nel 2019 fu danneggiato da quella clamorosa strategia in qualifica della Ferrari di non mandarlo fuori qualcosa di eh di mai visto quasi ehm quindi si vorrà rifare e sono convinto che abbia la macchina abbia le qualità per per rifarsi non arriverei forse a dire quello che qualcuno magari ha ha detto se non mi sbaglio eh Michael Schmidt di di Automoto Sport ha detto che l'Eclerc potrebbe addirittura lottare per la vittoria eh a Monte Carlo contro Verstappen ed Hamilton ha visto le sue qualità ha visto anche la macchina che si ritrova che andava molto forte come ha già detto Matteo nel settore nel terzo settore di Barcellona ehm sarei un po' più cauto ecco anche eh come approccio anche per i tifosi della Ferrari però ehm gli elementi per far bene per fare bene ci sono eh secondo me eh certo è che il focus deve essere più sulla McLaren che è il primo rivale in classifica eh che sulla che sulle vetture davanti ecco ehm e quindi insomma fare attenzione anche al team di walking che ha in Ricciardo un pilota che a Monaco ha un certo feeling con la pista ha fatto due pole una vittoria quindi ehm attenzione anche a a non sottovalutare la McLaren per questo weekend. Certo c'è da dire scusa ma c'è da dire che la McLaren nel nel terzo nel terzo settore di Barcellona ha sofferto abbastanza sicuramente è andata peggio della Ferrari quindi però come hai giustamente detto tu la McLaren ha l'arma Ricciardo che anche lui qui si esalta sempre quindi sarà una bella battaglia. Tra Norris e Leclerc in classifica c'è c'è solo un punto e invece tra la McLaren che è terza e la Ferrari quarta anche lì sono solo cinque punti di differenza quindi anche io mi aspetto mi aspetto una bella battaglia questo weekend ma con la Ferrari un po' avvantaggiata. Diciamo che è una sfida apertissima fino alla fine del campionato tra McLaren e eh Ferrari. A proposito di McLaren volevo chiedervi di commentare o comunque se a voi è piaciuta eh questa nuova livrea celebrativa che il team ha scelto per Monaco. Assolutamente sì. È bellissima e la vorrei vedere tutto l'anno ma è veramente stupenda. Secondo me il giusto mix tra retro e è una livrea attuale quindi veramente complimenti a McLaren e Gulf. Sì sottoscrivo completamente bellissima meravigliosa livrea ehm inaspettata questa questa partnership che riporta un po' indietro a alla partnership che è una partnership storica fra McLaren e Gulf. Ehm veramente 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 eccezionale la livrea in sé una una bellezza meravigliosa ehm che io sinceramente firmerei subito una petizione per per renderla la la livrea ufficiale di tutto l'anno. Magari potrebbe anche succedere se Gulf decidesse in un futuro di di tornare a sponsorizzare pesantemente la McLaren chi lo sa. Possiamo possiamo sognare ecco eh di vedere una livrea del genere perché è veramente incredibile. Chiaramente ragazzi sapete benissimo che a Monaco andrà di scena nuovamente lo spuntro tra la Mercedes e la Red Bull quindi tra Lewis Hamilton e appunto Max Verstappen. Vi leggo un po' di dati. la Mercedes e la Red Bull per quanto riguarda la lotta al mondiale costruttori per la Mercedes cento quarantuno punti per la Red Bull cento dodici. Mentre invece per il campionato piloti Lewis è novantaquattro punti mentre Max ottanta i due secondi pilota quindi Bottas quarantasette per trentadue. Secondo voi so che è una domanda un po' difficile abbiamo poche gare eh già disputate ma Lewis la spunterà anche questa volta? Eh troppo presto per dirlo secondo me insomma abbiamo visto distacchi più grandi dopo quattro cinque gare essere ribaltati eh in poco tempo in Formula Uno l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Abbiamo visto sicuramente una Mercedes ripresa eh questo è il dato che possiamo trarre dagli ultimi due gran premi che sono gli unici in cui forse abbiamo visto veramente una Mercedes anche se di poco superiore alla Red Bull ehm in qualifica sono lì comunque sono molto molto vicine in gara sia a Portimao che che in Spagna Hamilton aveva qualcosa in più rispetto a Verstappen questo è eh è innegabile ehm però qui si va tutto in un altro questo è tutto un altro circuito le caratteristiche del circuito sembrano favorire eh la Red Bull il fatto che la Red Bull sia molto forte in qualifica ehm potrebbe favorire proprio Verstappen che qui non ha troppi bei ricordi a Monaco ehm ma anche un Perez ad esempio Perez che invece è un pilota che sui cittadini si esalta sempre ehm anche se io credo che saranno ancora una volta saranno ancora una volta molto vicini però comunque insomma è molto presto per dire se il campionato sia già sia già scritto in favore di un pilota o dell'altro io mi aspetto che la battaglia sarà molto molto lunga arriverà almeno almeno fino all'età americane quest'anno sì anche io la penso come Gianmaria è veramente troppo presto per dirlo storicamente anche forse complice l'effetto Ricciardo eh Red Bull è sempre andata un pelino meglio di di Mercedes qui a Monaco quindi anche qui veramente non non saprei ancora su cui su chi su chi puntare eh così di impatto direi Red Bull appunto perché storicamente qui ne hanno sempre avuto di più però quest'anno almeno fino ad ora è veramente è veramente tesa la sfida quindi non so non so vedremo già da giovedì secondo me cominceremo a farci un'idea tra l'altro ragazzi non so se avete letto ma mh a a parità di punto comunque per i punti conquistati questo è il miglior inizio di campionato mai avuto da Lewis Hamilton non ha mai avuto così tanti punti con questo numero di gare disputate e molti pensano che in realtà un po' anch'io sinceramente che mh la Mercedes comunque abbia il pacchetto migliore la Red Bull è molto veloce però io penso che che Mercedes ne abbiano ancora di più non solo per Lewis Hamilton che chiaramente fa la differenza ma anche per per quanto riguarda gli uomini al muretto raramente sbagliano poi c'è da dire c'è il discorso dei secondi piloti eh Bottas non so se avete sentito ultimamente ha rilasciato in questi giorni anzi un'intervista dove ha detto che lui ehm insomma pensa ancora di poter vincere il titolo e che lui non concederà più nulla quando la squadra insomma chiederà queste sono le sue parole in un'intervista questo perché sapete che dopo la gara c'è stato un po' di polemica Wolf non era soddisfatto del fatto che non ha fatto passare subito Hamilton come commentate queste dichiarazioni di Bottas? Io penso che Bottas stia diventando un po' un po' come la Red Bull ormai ogni volta dice sì sì l'anno prossimo però vinco io cioè l'anno prossimo ce la faccio io sinceramente non gli credo più ehm questo inizio di stagione per lui è stato veramente difficile eh ha praticamente la metà dei punti di Hamilton e questa la dice lunga e qui a Monaco vedremo un po' ma non dimentichiamo che a Barcellona si è fatto una buona quantità di giri dietro dietro le Clerc e che per quanto possa essere un talento le Clerc di certo non non guida una Mercedes quindi sinceramente complice anche queste sue ultime dichiarazioni e piccole ribellioni secondo me a fine anno saluterà saluterà la Mercedes quindi la domanda diventerà e secondo me Bottas avrà un altro team in Formula 1 perché secondo me qualcuno potrebbe pensarci ad ingaggiarlo e anche io credo che stia sentendo il fiato sul collo di Russell o di Ocon non so magari quale sarà la scelta della Mercedes anche Ocon sta facendo un ottimo inizio di campionato e ha un pilota Mercedes in prestito all'Alpine non credo proprio che sarà sarà in Mercedes l'anno prossimo queste piccoli ribellioni forse sono anche un segnale insomma ribellioni ribellioni alla Bottas quindi insomma nulla di che ecco non è la rivoluzione francese direi che direi che non ha più grossi non ha più grossi e quindi lui può dire quello che vuole ma ma il il titolo sicuramente finché ci sarà Hamilton e con lui sarà molto difficile sicuramente anche i canali di Alessandra sono d'accordo con noi quindi purtroppo ragazzi quando passa l'ambulanza loro fanno così perché sono un po sono mezzi lupi quindi ambulanza polizia è sempre così anche di notte immaginate non voglio pensare male chiaramente io credo che comunque in Formula 1 più o meno all'incirca siano comunque tutti grandi professionisti comunque la massima categoria non è che ci finisci per caso lì a parte erari casi però secondo me lui dice queste cose un po' per non so lui sa che non ha mai mai avuto chance di poter vincere il mondiale perché comunque nel momento stesso in cui Rosberg ha lasciato la Mercedes Wolf ha cercato un pilota che non desse problemi alla fine Bottas prende il suo stipendio e credo che in parte lui sì da una parte avrà un minimo di orgoglio è chiaro però lui sa benissimo che finché c'è Hamilton lì non può puntare al mondiale e tra l'altro anche guardando la serie Netflix Drive to Survive c'è una scena tristissima dove lui vince una gara torna insomma e box non c'è nessuno ad aspettarlo cioè è proprio brutto cioè sono andati tutti via lui stesso comunque rimane colpito da questa cosa che neanche lo aspettano per festeggiare la sua vittoria quindi secondo me a volte lui rilascia queste dichiarazioni un po' per per far vedere per un po' di orgoglio però non credo che cioè a me è pensato di poter vincere il mondiale e tra l'altro io penso che sappia benissimo che il prossimo anno lui non sarà più lì e credo che il ruolo fondamentale nella scelta del secondo pilota l'avrà Hamilton nel momento in cui firmerà il contratto perché comunque io sono un po' scettica sull'accoppiata Russell Hamilton nel senso che secondo me ci sarebbero i problemi come ci sono stati in con Rosberg voi che dite allora tornando all'argomento Bottas penso che sia un pilota comunque che meriterebbe di restare in Formula 1 prendiamoci chiaro è un un pilota che il il suo lavoro lo fa benissimo cioè quello di portare a casa il risultato non portando al massimo al limite la macchina perché comunque il lavoro quel lavoro lì lo fa il super campione in un team così vincente come Mercedes non c'è neppure bisogno di avere due super campioni a guidare quella macchina basta avere uno che fa che da fuori sempre il massimo e uno che che fa il suo il compitino sia arrivare secondo terzo quarto insomma il suo lo fa per quanto riguarda il suo eventuale sostituto non lo so perché Russell in questo inizio di stagione non mi ha colpito particolarmente ci sta scusate sempre molto forte in in qualifica però non ha mai avuto in gara quello con l'occasione l'unica volta che l'ha avuta c'è stato proprio l'incidente con con Bottas ad Imola quindi non lo so potrebbe entrare in scena un secondo un secondo concorrente secondo me che sta facendo benissimo quest'anno che è Ocon però ci vorrebbe veramente un campionato meraviglioso da da parte da parte di Ocon perché al momento Russell è chiaramente in vantaggio Mercedes ha investito tanto su di lui e sarebbe sarebbe quasi un brutto sgarbo ecco se non se non lo portassero in squadra sì anch'io la penso decisamente come te sul discorso Ocon vero sta facendo molto bene però sinceramente per quanto sia difficile valutare l'inizio di stagione di Russell perché guida comunque una vasca da bagno credo che nei piani di Mercedes il futuro sia Russell Ocon non credo che in questo momento rientri tra le priorità però comunque come hai detto tu Bottas valutandolo per quello che è e quindi non come un rivale di Hamilton è comunque un pilota che merita di restare in Formula 1 perché c'è sicuramente e c'è stato sicuramente di peggio quindi anche perché negli anni con la Williams Bottas non si può dire abbia fatto male ricordo un podio ricordo che c'era un periodo nel quale veniva accostato alla Ferrari non so se ve lo ricordate ma nel 2015 veniva descritto come il dopo Raikkonen quindi insomma proprio un brocco non è però ovvio che nel momento in cui entri in Mercedes e ti vai a confrontare con Lewis Hamilton sono cose che devi accettare dopo comunque diversi anni nello stesso team se non se ne è accorto dopo il 2018 quando te ne vuoi accorgerne sicuramente come ha detto Alessandra lui fa determinate dichiarazioni per non essere preso per i fondelli anche perché sui suoi profili social un commento su tre è una presa in giro nei suoi confronti ma non dimentichiamo che comunque è un pilota di Formula 1 e che attualmente guida per il top team che poi sì vogliamo tutti Russell però comunque adesso la Mercedes per quanto non volesse avere problemi di certo non sarebbe andato a prendere l'ultimo della classe certo poi sicuramente è la sua stagione più difficile perché probabilmente è consapevole insomma che potrebbe lasciare a fine anno inoltre il team radio di Wolf la cheerleader che lo vincita sicuramente non è molto semplice per lui ragazzi volevo farvi una domanda chi pilota ad oggi vi ha deluso maggiormente? bella domanda io direi forse Alonso però non è proprio deluso ovviamente ci si aspettava che distruggesse Ocon non so se sia Ocon che sta facendo molto bene o Alonso che l'ha detto anche lui non è ancora al 100% quindi anche lui un po' deluso da se stesso forse lo è però bisogna dargli tempo io credo che Mazepin sia fuori classifica quindi sì forse Alonso o anche Ricciardo ha lo stesso problema di Alonso alla fine si deve ambientare quindi valutando un po' il distacco anche dal compagno di squadra per ora direi Alonso io invece paragonando i piloti che hanno cambiato team quindi metto sulla stessa linea Sainz, Ricciardo e Perez perché comunque li ritengo tre piloti molto validi e se devo sceglierne uno che mi ha deluso questa stagione fino ad ora scelgo Perez perché comunque ha una vettura migliore di Sainz e Ricciardo per ora al di là della qualifica ad Imola il resto non è stato secondo me un campionato fino ad ora al suo livello si è gasato domenica a Barcellona per il sorpasso su Ricciardo un sorpasso molto bello però ecco non vorrei dirlo ma sta finendo nelle posizioni dove quasi finiva Albon quindi io starei un pochino un pochino sull'attenti anche perché come abbiamo visto in Red Bull è un secondo che viene subito scartato e un'altra delusione mi permetto di aggiungerne un'altra fino ad ora Tsunoda che partito a cannone è gasatissimo poi si è un po' spento insieme all'Alfa Tauri che invece sembra non essersi mai accesa questa stagione più che Tsunoda direi proprio l'Alfa Tauri in sé anche Gasly ha fatto tanti errori in griglia domenica due anzi anche il prima di Spagna ha sbagliato l'ingresso in Piazzola è andato un po' lungo ha preso la penalità il tamponamento a Ricciardo in Bahrain quindi poi è la macchina in sé come prestazioni che non ha riflettuto quelle che erano le aspettative dopo dopo i test quindi sì forse come team l'Alfa Tauri direi come pilota l'avevo dimenticato proprio Perez al momento come prestazioni secondo me non è non è a livello della macchina che porta certo tra l'altro lo stesso Horner ha proprio detto che hanno un disperato bisogno di Perez perché comunque per conquistare il titolo c'è bisogno dell'aiuto del secondo pilota e comunque fino adesso Bottas ha fatto meglio ritornando al discorso Zunoda che avete nominato entrambi io comunque sono d'accordo su Perez non nomino neanche Sebastian Vettel semplicemente perché poverino con quella macchina non so ritornando al discorso Zunoda e Mazepin volevo ho letto questo articolo in cui si diceva appunto che entrambi sono molto arroganti e insomma anche un po' prepotenti non so se avete letto le dichiarazioni di Zunoda a fine gara se le è presa col team sempre molto aggressivo anche nei team radio per Mazepin chiaramente è un discorso a parte praticamente è il più odiato del del Circus non c'è un pilota che non si è lamentato finora tra l'altro domenica nella domenica di Barcellona c'è stato questo simpatico di Pareto con Wolf che ha aperto la radio rivolgendosi direttamente alla direzione gara proprio per il comportamento che Mazepin ha avuto in gara alla lunga potrebbe diventare anche pericoloso tra l'altro volevo chiedervi di commentare Zunoda poi alla fine ha chiesto scusa al team però se devo essere sincero a livello caratteriale proprio non mi è non mi è piaciuto parecchio in questo avvio di stagione infatti se non erro nel terzo turno di libere o in qualifica direttamente a Barcellona a un certo punto l'ingegnere di pista gli ha detto di calmarsi perché stavo un po' stavo un po' esagerando in effetti dovrebbe calmarsi un po' anche perché se sei sempre così aggressivo dalla dalla vettura per quanto non possa non possa andare tu non riesci mai a concentrarti al 100% ed estrarne il meglio per quanto riguarda Mazepin c'è veramente poco da dire ormai zimbello di tutto il paddock è diventata una chicane mobile per quanto riguarda la sua pericolosità a me dà l'impressione di un di un pilota che non ha padronanza della della sua monoposto perché anche lì con nel caso del del doppiaggio di Perez che stava conducendo la gara a Portimao lui praticamente della presenza di Perez non se n'era minimamente accorta infatti subito si è reso conto di aver fatto una una stupitaggine sui confronti io sinceramente non so quanto la Haas abbia voglia di la Haas ha un disperato bisogno di soldi di questo ormai lo sanno anche le pietre però secondo me stiamo un po' oltrepassando il limite anche perché anche per questa vicenda dei doppiaggi di lui che non si rende conto di questo e di quell'altro qua stiamo arrivando ai limiti dello strappo della superlicenza secondo me quindi vediamo cosa succederà io veramente mi trovo in difficoltà nel parlarne sì non è un argomento facile né piacevole forse parlare di Mazepin in questo momento non si è ambientato dall'idea di essere classico pay driver però nell'accezione più negativa proprio del termine quindi che a volte esagera non si rende contro degli altri in pista fuori spesso non ha un comportamento troppo positivo abbiamo visto un po' anche arrogante in interviste eccetera quindi sì anche rispetto al suo compagno di squadra Mick Schumacher che ho visto un video su social qualche dopo il Gran Premio di Spagna mi sembra proprio di Schumacher che va a stringere la mano a tutti i componenti del team al termine della gara quindi sì di Mazepin è difficile parlare c'è la storia passata sua di tante intemperanze fuori dalla pista dentro la pista quindi insomma in questo momento sappiamo perché è in Formula 1 perché porta un sacco di soldi ha salvato l'ass di questo forse gliene siamo grati però sì alla lunga se non se non si ambienta alla Formula 1 che è qualcosa di totalmente diverso rispetto alle categorie propedeutiche rischia di diventare non dico pericoloso perché ci vorrebbe veramente qualcosa di clamoroso però rischia di diventare veramente fastidioso costantemente fastidioso ecco per quanto riguarda Tsunoda Tsunoda è molto particolare perché ha commesso un errore gravissimo secondo me in Spagna che è andare contro al team andare contro il team dicendo addirittura supponendo che la sua macchina e quella di di Gasly non fossero uguali che è abbastanza grave da dire ha fatto un errore si è scusato però Tsunoda a me sinceramente non sta dispiacendo si sta abituando alla Formula 1 anche lui non ha il mezzo che ci aspettavamo ha commesso i suoi errori ad Imola ad esempio però ecco Tsunoda mi sembra che abbia comunque un bel potenziale fin qui fin qui ancora in espresso speriamo che riesca riesca ad esprimerlo nei prossimi weekend certo perché la velocità sicuramente non gli manca un pilota come Tsunoda l'ha già dimostrato in Formula 2 deve solo ambientarsi in Formula 1 come hai detto 2 e soprattutto anche darsi una calmata si ha questo atteggiamento un po' poco tipico dei giapponesi dice tantissime parolacce sconvolgente avete qualche altra domanda io volevo dire una cosa per tutti quelli che ci seguono se temono di annoiarsi troppo durante il weekend con il Gran Premio di Formula 1 un consiglio che voglio dare è di seguire le gare delle categorie propedeutiche quindi la Formula 2 che generalmente a Monaco è qualcosa di folle quindi se ci si vuole divertire e se si può consiglio di seguire le gare di Formula 2 a Monaco dovrebbero essercene due venerdì e una sabato quindi anche il giorno in cui diciamo l'attività di Formula 1 è ferma c'è il modo di vedere qualcosa di interessante a a Monte Carlo sicuramente sicuramente bene ragazzi questo è tutto vi ricordo gli orari le qualifiche saranno sabato alle 15 e la gara domenica alle 15 e vi ricordo di seguirci e di iscrivervi sul nostro canale YouTube ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti